Immagini della Madonna dei Polsi affisse su un immobile confinante con la casa della mamma di alcuni boss della Cosca Pesce di Rosarno. Davanti all'ex supermercato chiuso ormai da anni e abbandonato si trova l'abitazione dove vive l'anziana Giuseppina Bonarrigo, ormai novantenne. Si tratta della matriarca della famiglia Pesce dopo che la sua casa abusiva venne demolita perché costruita su un sito archeologico. Con un atto amministrativo firmato dall'ex sindaco Elisabetta Tripodi si procedette alla demolizione, ma per effettuarla si dovette fare ricorso all'imprenditore e testimone di giustizia Gaetano Saffioti, visto che quasi tutte le gare andarono deserte. L'edificio, di proprietà di un cittadino rosarnese, ha anche ospitato in passato un negozio di abbigliamento amministrato per un breve periodo sempre dai pesce. Non era mai successo a Rosarno che il 2 settembre, ricorrenza solenne della Madonna della Montagna celebrata puntualmente da molti rosarnesi, si potessero trovare delle immagini sacre su una serranda sporca e arrugginita. Di solido, invece, si assiste ogni anno a sfilate di macchine i cui vetri sono tappezzati da immaginette, spillette, ramoscelli di ulivo e fazzoletti con l'effigie della Vergine dei Polsi che attraversano le vie della città di Rosarno suonando il clacson. Anche quest'anno si è ripetuto lo stesso corteo al ritorno dalla festa dei Polsi e qualcuno ha pensato forse di omaggiare l'anziana donna e la sua famiglia con quel gesto. Questo è quello che almeno pensano i carabinieri della tenenza di Rosarno e della compagnia di Gioia Tauro che hanno effettuato dei rilievi e soprattutto stanno cercando di ricostruire cose avvenuto la sera o la notte del 2 settembre scorso. Un omaggio che sembra non sia la prima volta che avviene. I carabinieri stanno visionando le immagini di alcune telecamere posizionate nella zona per identificare le persone che si sono rese protagoniste del gesto e capire se fra di essi vi possano essere soggetti già noti alle forze dell'ordine che dopo essersi recati a Polsi mischiandosi tra tantissimi pellegrini hanno in qualche modo pensato di omaggiare la famiglia Pesce una delle più importanti dell'andrangheta calabrese che opera a Rosarno e nelle zone limitrofe con aggance e interessi nel nord Italia. Dura è stata la reazione di alcuni sacerdoti di Rosarno a cominciare da Don Pino Varrà, parroco di San Giovanni Battista e vicario generale della diocesi di Oppido Palmi Don Rosario Attisano, parroco della Maria Santissima Adolorata Roberto Meduri, parroco di Sant'Antonio e Carmelo Ascone, vicario parrocchiale della Maria Santissima Adolorata con una nota secca e durissima i religiosi ci hanno tenuto a precisare che nessun pellegrinaggio è stato organizzato dalle nostre comunità al santuario dei Polsi in occasione della festa che si svolge e che le carovane che portano da Rosarno lo fanno in forma strettamente privata durissima la presa di posizione del prefetto Michele Di Bari che esprime profondo sconcerto e dura riprovazione incondizionata condanna per un gesto blasfemo che esige ogni urgente sforzo perché non è assolutamente tollerabile che la gestualità dell'andrangheta possa lontanamente ripetersi